Siamo a presentarvi la carrellata dei prodotti oltremateria. Iniziamo con Eco Primer in confezione da 1 litro e 5 litri. È il nostro primer per andare a togliere la polvere sulle superfici assorbenti come massetti e intonaci. Quindi Fondoflex è il nostro promotore di adesione sia da pavimento che da rivestimento per andare ad agganciare il nostro ciclo. Abbiamo poi le confezioni da 7-14 kg di olio base con i vari sacchetti e confezioni di inerti sabbie naturali di quarzo 800, 500, 250 e 200 per le varie texture e granometrie possibili. Utilizzando l'eco base tal quale si può ottenere la superficie extra fine. Iniziamo con i vari sacchetti. L'ecomalta ecobase riciclo in confezione da 16,5 kg dove vanno inseriti poi nelle confezioni da 3,5 kg gli inerti provenienti dal mondo del riciclo certificato come lampadine, vetri di bottiglie, vetri di specchi, marmo di carrara, coccio pesto, conchiglie, gusci di ostrica e tanti altri inerti provenienti dal mondo del riciclo. Iniziamo con i vari sacchetti. Oltre materia ha in gamma 100 colori esclusivi. Naturali, laccati, patinati e ossidi e terre naturali. Questa è la mazzetta colori oltre materia in cui potrete scegliere la colorazione desiderata. I colori oltre materia fanno parte di una gamma di colori acrilici e di colori e ossidi e terre naturali. Qui vediamo le paste colorate EGA con le quali poter andare a formulare diverse tonalità dei colori OL, dei colori RAL o NCS. Qui abbiamo gli ecocolor con ecocolor neutro che funge da turapori e che possiede le capacità per andare a diluire le colorazioni madre e quindi ottenere diverse texture e nuvolature sulla superficie. Gli ecocolor hanno la capacità in trasparenza di rendere particolare e profondo il colore sulla superficie. Qui abbiamo ecoglitter per una decorazione con brillantini, oro, argento e iris. Ecolux sono colori per l'effetto metallizzato da applicare sulla superficie delle nostre oleomalte in diverse tonalità. Le terre naturali e gli ossidi per colorare la malta nel suo impasto. L'altra materia possiede un'ampia gamma di finiture da protezione. Ecomono, un monocomponente a base acqua. Ecobico, Ecobico Strong e Ecopur. Tre straordinarie finiture di protezione per pavimento e rivestimento che possono essere opache, lucide o satinate. Tutti prodotti a base acqua e privi di sostanze nocive e tossiche per l'uomo e per l'ambiente. Vari sono i prodotti per la manutenzione e la pulizia delle superfici oltremateria. Ecodei per la pulizia giornaliera, Ecodetergo per la pulizia un po' più tenace. E poi abbiamo un kit di manutenzione straordinaria per ravvivare e pulire le superfici nel tempo. Quindi abbiamo Ecosaniter, un prodotto specifico per togliere il calcare delle superfici senza rovinare le finiture. Ecosaniter. 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 Grazie.